nuova opel astra benvenuto futuro nuova opel astra tua da 179 euro al mese scopri anche sabato e domenica un ciao a tutti voi da rosi cisa 2000 concessionaria opel ospite della nostra trasmissione la parola subito a tommaso ciao rosi buonasera a tutti i telespettatori siamo qui nella sede ufficiale della opel di bologna in via paolo bovi campeggi numero 4 a pochi passi dalla stazione e a due minuti dall'uscita numero 5 della tangenziale e andiamo subito a vedere le offerte in compagnia di vanessa siamo in compagnia della grande novità del mese innanzitutto buonasera telespettatori buonasera tommaso si è aggiunta alla gamma elettrica di opel dopo opel course e opel mocca anche opel astra full electric allora nuova opel astra finalmente qui nel nostro showroom 415 chilometri di autonomia dichiarati da casa madre parliamo di una macchina esclusivamente elettrica quindi full elettrica diversi tipi di modalità di ricarica ricarica domestica ricarica wall box oppure ricarica appunto fast charge ricordo che mediamente ci vogliono all'incirca meno di 6 ore per ricaricarla tutta al 100% e meno di 20 minuti per ricaricarla dal 0% all'80% questa versione logicamente è da provare e da testare quindi aspetto da parte vostra tante telefonate per concordare con noi un test drive su questa vettura rate a partire da 179 euro al mese con gli incentivi statali alla rottamazione che continuano su tutte le fasce di versioni elettriche della gamma opel proseguiamo con la nostra city car opel corsa possiamo averla nella versione benzina e full electric e piccolo spoiler arriverà anche nella versione ibrida parliamo di 4 metri e 0,6 centimetri esatto Vanessa questa che abbiamo in esposizione qui in salone è un 1.2 da 75 cavalli guidabile anche da neopatentati ricordo che opel raddoppia gli incentivi alla rottamazione quindi questa macchina potrà essere vostra a soli 109 euro al mese con una rata con il discorso scelta opel piccolo anticipo 36 rate e un valore futuro garantito della vostra macchina in base al chilometraggio che fate proseguiamo con opel corsa ma in una versione molto più sportiva esatto Vanessa versione GS è una delle più definite intanto qui abbiamo il piacere di avere la versione tutta nera che ha il suo fascino e che inquadra appunto il visor nuovo del logo opel tutto in contrasto carbon black quindi tutto nero le versioni ricordo che sono al massimo degli ADAS di sicurezza allarme collisione, frenata assistiti, assistenza alla carreggiata sono di serie in tutte le versioni inoltre nella versione GS abbiamo anche la possibilità di avere già i sensori di parcheggio anteriori, posteriori, retrocamera posteriore e abbiamo un IntelliLink che è completamente rivoluzionato quindi ad alta definizione ed è anche molto più bello da vedere ricordiamo anche a tutti i nostri telespettatori che oltre a venirci a trovare in concessionaria possono seguirci su tutte le nostre piattaforme social facebook, instagram, linkedin, tiktok e sul nostro sito internet scisa2000.com e adesso proseguiamo con Opel Crossland parliamo di 4 metri e 21 centimetri possiamo averla nella versione benzina e diesel esatto Vanessa, tanta disponibilità di prodotto dal nuovo al chilometro zero quindi non abbiamo tante versioni tanti colori disponibili in pronta consegna ricordo, 1.2 benzina turbo da 110 cavalli e il 1.5 gasolio che ha bassi livelli di emissione CO2 e bassissimi consumi consumi di cariate 4,5 litri per 100 chilometri è una macchina stratosferica questa versione intanto per la grandezza e per i consumi e per le prestazioni rate a partire da 129 euro al mese con il discorso Scelta Opel quindi vi aspettiamo qui per venire a vedere e toccare con mano concludiamo con Opel Mocca 4 metri e 15 centimetri possiamo averla nella versione benzina e full elettrica esatto Vanessa, questa che abbiamo in esposizione è un 1.2 turbo benzina ed è un chilometro zero, avrà un'offerta particolare a chi ci viene a trovare intanto versioni ne abbiamo tante disponibile sia chilometro zero che versioni nuove e sottolineo per quanto riguarda le versioni elettriche anche per corse elettriche abbiamo una campagna promozionale molto allettante tasso zero minimo anticipo 35 rate e un valore futuro garantito ma tutto a tasso zero quindi vi aspettiamo qui in numerosi per venirla anche a provare e vedere non ci resta che augurarvi buona serata e veniteci a trovare in cosa credi? nella popolarità nei modelli negli stereotipi credi in te stesso nuova Peugeot e 208 da 110 euro al mese con incentivi statali benzina, hybrid o 100% elettrica buonasera a tutti eccoci di nuovo in Steffar concessionario ufficiale Peugeot a Bologna ci troviamo precisamente in via 10118 a pochi passi dall'uscita 11 bis della tangenziale vicino alla concessionaria trovate anche l'officina così da potervi seguire a 360 gradi anche nel post vendita ora passiamo a vedere insieme ai miei colleghi le promozioni di questo mese eccoci adesso andiamo a vedere 208 nella nuova versione con la colorazione giallo la possiamo trovare in due motori motore ibrido che è la new entry e il motore benzina 1200 cavalli 1200 75 per neopatentati abbiamo numerose chilometri zero già del modello nuovo venite a trovarci vi aspettiamo nella 208 che andiamo a vedere adesso è la versione elettrica completamente elettrica e la troviamo in comode rate da 110 euro al mese mi raccomando accorrete perché rimangono gli ultimi incentivi statali ed eccoci al fianco di nuova Peugeot 308 finalmente nella versione totalmente elettrica ebbene sì anche per 308 Peugeot ha deciso di aprire la motorizzazione totalmente elettrica in aggiunta a quelle che erano già presenti benzina, diesel e ibrido plug-in ci tengo sempre a ricordarvi che per le versioni elettrificate plug-in e totalmente elettrico abbiamo ancora importanti incentivi statali solo per questo mese per tutte le motorizzazioni in proposta su Peugeot 308 abbiamo un'importante promozione a partire da 250 euro al mese con un eventuale anticipo derivante anche dalla vostra permuta ed eccoci al fianco di Peugeot 3008 il SUV per eccellenza di casa Peugeot ci troviamo al fianco di uno degli ultimi esemplari dell'attuale modello perché come immagino ben sappiate da aprile 2024 e già ordinabile da oggi uscirà il nuovo 3008 in questo caso abbiamo un benzina cambio manuale ma ci tengo a ricordarvi che abbiamo ancora ampia disponibilità di diesel cambio automatico solo per questo mese Peugeot 3008 viene proposto su tutte le motorizzazioni con una comodissima rata a partire da 250 euro al mese con un anticipo eventualmente derivante anche dalla vostra permuta come per anche la 308 e gli altri segmenti di Peugeot per le versioni elettrificate abbiamo ancora importanti incentivi statali ed eccoci con Peugeot 2008 la nuova Peugeot 2008 troviamo un'importante differenza su quello che è la mascherina frontale con la novità dei tre artigli a discapito del singolo artiglio che avevamo sul modello precedente ci tengo a precisarvi e ricordarvi che da Stefar trovate ancora gli ultimi esemplari di Peugeot 2008 nella motorizzazione diesel automatica ad oggi non più ordinabile solo per questo mese Peugeot 2008 su tutte le motorizzazioni benzina, diesel, mild hybrid e totalmente elettrica viene proposta con una comoda rata a partire da 170 euro al mese con un anticipo derivante anche dalla vostra permuta ed eccoci al termine di questa puntata ci tengo a ricordarvi a venirci a trovare in salone per visionare le auto e scoprire le promozioni mi raccomando veniteci a trovare anche su tutte le nostre piattaforme social facebook, instagram e tiktok non dimenticatevi il sito stefar.com dalla concessionaria Stefar è tutto quelli del leone buonasera a tutti io sono Federico vi presento il nuovissimo salone di Ineos Grenadier nuovo brand di Stefanelli 1952 ci troviamo in piazza 7 novembre 1944 numero 8 a 5 minuti in macchina dalla stazione centrale di Bologna 10 minuti a piedi vi presento il salone così se volete venirmi a trovare anche solo per un caffè c'è un salottino molto comodo e ovviamente vi faccio vedere le nostre vetture ed ecco a voi la nostra Grenadier nella sua imponenza 5 metri di macchina 3 tonnellate motore BMW 3000 6 cilindri in linea diesel o benzina e la cosa bella di questa vettura è che Jim Reckleff appassionato di fuoristrada e collezionista ha voluto assemblare i migliori prodotti che ci sono sul mercato quindi come vi dicevo motore BMW trasmissione ZF quindi abbiamo esattamente lo stesso cambio di BMW a sali della Carraro quindi abbiamo un telaio di una di una azienda leader ok del mercato stesso vi dico solo che fa i telai per i trattori telai a longaroni quindi non tutti fuoristrada hanno i telaio appunto a longaroni e 4x4 permanente con 3 differenziali bloccabili Ineos Grenadier può essere acquistata in due versioni la versione Field Master è la versione Trial Master questa che vedete è la Trial Master si identifica dallo snorkel laterale dai cerchi in acciaio ed appunto all'interno della sua meccanica tre differenziali bloccabili già di serie ok l'altra versione è la versione Field Master la versione Field Master è una versione un pochino più elegante ok quindi interna in pelle finestrini safari sopra il tetto abbiamo solo un differenziale ma la cosa importante è che tutte e due le versioni come vi dicevo prima hanno una trazione integrale permanente entrando nello specifico quella che vi faccio vedere oggi è una Trial Master una Trial Master un pochino rivisitata verdone inglese storico e interno l'abbiamo inserito un interno in pelle pochissima elettronica perché Jim Radcliffe il proprietario dell'azienda ha voluto eliminare l'elettronica che non serve quindi abbiamo un monitor centrale dove da lì abbiamo tutta la gestione della vettura la cosa bella di questa macchina è la pulsantiera sopra il tetto stile aereo perché Jim Radcliffe è un appassionato anche di aeronautica quindi lui tutto quello che riguarda il fuoristrada l'ha voluto inserire sopra il tetto per non andare appunto a disturbare il conducente mentre è in situazioni molto difficoltose del tracciato vi ringrazio vi ringrazio di avermi seguito vi ricordo di assolutamente venirmi a trovare anche per provarlo e di dirmi se avete visto la trasmissione in tv perché avrete un trattamento ovviamente speciale per questo e la macchina è configurabile online oppure potete visionare assieme a me i pronti a consegna che ho disponibili e niente vi aspetto e la macchina